Allora, a quanto pare siamo i primi, ci conviene star qui ad aspettare, si faranno vivi. Qualcuno ci sta già aspettando. Ehi, guarda quanta robetta si trova in questa bella città. Dai, non abbiamo tempo per divertirci. Ma che dici? Di tempo ce ne abbiamo fino a domani. Salve. È questo il posto? Ehi, non è che me ne freghi, ma dove sono i vostri montoni? Delle fighette così hanno sempre il getto intorno. Stasera siamo liberi, gli uomini sono su al bronzo. Non preoccuparti per loro, siamo vedove e senza muscolo. Andiamo. Vuoi sapere una cosa? Appena ti ho visto mi sono detto, oh Cristo, quella bambina mi tira forte. Penso che è stata una grande idea quella di portarci con voi. Conosciamo voi i guerrieri, siete davvero in gamba. Sappiamo che ci sapete fare. Ah sì, e chi ve l'ha detto? Sai come vanno, le voci girano. Beh, sì è vero, modestamente siamo qualcuno. Vieni su. Devo dire. Siete le prime a farci amiche che abbiamo visto stanotte. Hai una voce da sballo. Si potrebbe far festa? Sì, accoppiarci. Tè, certo. Io sono uno che ci sta. Se volete divertirvi siamo quelli giusti. O più mi ti faccio, più mi ti farei. Allora d'accordo, amici. Si fa qualcosina. Fatevi un giro. E sceglietevi la pupa. Certo, che ce n'è di robetta? Com'è che vi chiamate? Siamo le Lisis. Lisis? È già carino, carino, divertente. Lo sai anche tu. Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso. Dici giusto? Credo anch'io, davvero. Grazie tanto. Qui sei tu che comanda. Meno male che l'hai capito. Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis. Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una. L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi. Su, sta tranquillo per favore. Ho un po' da fare adesso. Ho un po' da fare adesso. Grazie a tutti. Ehi, ti va di fare un giro? Sono sciolta. Ehi, ti va di fare un giro? Sono sciolta. Torno subito, bambino. Ehi, ti va di fare un giro? Così siete voi, i famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus. Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Postone! Via, via! Arrivati i coglioni! Arrivati! Di qua! La porta! Via, via! Scappano, scappano! Mi ha ferito, mi ha ferito! Senti, fratello, cerca di stare tranquillo. Non è niente di grave, niente di grave! Dobbiamo essere forti se vogliamo farcela! Siamo quasi a casa! Credono che abbiamo ucciso Cyrus! Ma di che stai parlando? Non è vero! Sono convinti che l'abbiamo fatto! Ci danno la caccia tutte le bande della città, tutte! Cristo santo! Non ce la faremo mai a uscirne fuori salvi! Ce la faremo, Rembrandt! Siamo arrivati fin qui, vedrai che ce la faremo! Dobbiamo andare a Union Square adesso! Dobbiamo avvisare gli altri! Siamo arrivati!